Ministro, buonasera. Oggi è una partita complicata, però direi che l'Inter è rimasta sempre fedele a se stessa e se non sono arrivati tre punti è pura casualità. Sì, penso che abbia comunque poco da rimproverare alla squadra, perché c'è stato grande impegno, c'è stata grande voglia, determinazione. Magari potevamo essere un po' più qualitativi nelle fasi di conclusione, nell'ultimo passaggio, perché comunque anche in questa partita abbiamo avuto delle situazioni che dovevamo sfruttare molto meglio. Detto questo, siamo passati svantaggio, un po' di nervosismo si è visto nei ragazzi, ma i ragazzi devono stare comunque sereni, devono continuare a lavorare, devono continuare a fare quello che hanno fatto oggi, con grande voglia, con una determinazione, le partite iniziano ad essere sempre di meno. Dispiace, perché ripeto, io penso che oggi meritassimo i tre punti in maniera molto chiara, molto netta. Però va bene così, adesso bisogna recuperare, perché abbiamo fatto una partita molto intensa, abbiamo fatto una grande pressione a tutto campo e domenica ci aspetta una partita anche molto fisica contro il Verona. È normale che possa aumentare la tensione man mano che si riducono le partite? Beh, è inevitabile, perché chiaramente diventano sempre di meno le partite. Inizio a vedere il traguardo, è inevitabile che la pressione un po' inizia a sentirsi, che il pallone inizia ad essere leggermente un po' più pesante. Non dimentichiamo che sono tanti ragazzi che per la prima volta stanno lottando per vincere qualcosa di importante e di straordinario, perché stiamo parlando dello scudetto. Dopo tantissimi anni in cui le altre squadre, non solo l'Inter, sono state tutte quante a guardare. Però, ripeto, noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto oggi, con grande voglia, determinazione, cercando di vincere le partite, così come abbiamo fatto anche a Napoli. Ci sta comunque, che puoi essere sfortunato, perché oggi penso comunque sia stato anche un po' due gol per centimetri annullati, dei pali. Dobbiamo continuare su questa strada con grande voglia, con grande entusiasmo a quello che stiamo dimostrando. Sì, io intanto, buonasera mister, mi ricollego un attimo al discorso della sfortuna, perché di fatto negli ultimi 150 minuti due tiri in porta subiti, o meglio, un tiro in porta subito e due gol. E già questo dato è abbastanza emblematico sotto questo punto di vista. Io però le volevo fare i complimenti per la crescita di questa squadra, che abbiamo visto sia contro il Napoli che contro lo Spezia questa sera. Una squadra che cresce davvero di partita in partita, mantenendo la propria identità. Sì, assolutamente. Questa è una squadra che comunque ha una propria identità, quindi ha un proprio spartito da suonare, diciamo, visto che comunque una squadra deve essere un'orchestra. Ripeto, andiamo a casa con il rammarico di aver lasciato due punti, però, sapendo che abbiamo fatto di tutto, è che se giochi questo tipo di partite, sicuramente alla fine i tre punti di solito arrivano. Anche durante la partita abbiamo cercato anche di cambiare, di giocare con Sanchez, con Lautaro e con Romelu, per diventare un po' più, ancora più offensivi di quello che eravamo. Abbiamo messo Young a posto di Ivan Perisic, che rientrava dopo un bel po' di tempo. Diciamo che l'abbiamo provato tutte, non abbiamo mai perso l'equilibrio, questa è la cosa più importante, perché queste sono anche partite, che poi alla fine, per la voglia di vincerle, ti sbilanci e rischi di prendere un gol in contropiede, sarebbe veramente stata una beffa. A presto. to subscribe to our YouTube channel.